Le tentazioni non ci devono né spaventare, né sconcertare, nemmeno scoraggiare, perché nessun discepolo è più grande del suo maestro. Nel corso della quindicesima e ultima congregazione generale del Sinodo straordinario sulla famiglia, Papa Francesco ha tracciato un bilancio di questa assise, un cammino costellato da tentazioni, ma anche caratterizzato dalla bellezza del confronto. Il Pontefice ha enumerato così la tentazione dell'irrigidimento ostile, cioè il voler chiudersi dentro lo scritto e non lasciarsi sorprendere da Dio, la tentazione del buonismo distruttivo che a nome di una misericordia ingannatrice fascia le ferite senza prima curarle e medicarle, la tentazione di scendere dalla croce per accontentare la gente. Tanti commentatori, ha precisato Papa Francesco, hanno immaginato di vedere una chiesa in litigio, ma il Sinodo mai ha messo in discussione le verità fondamentali del sacramento del matrimonio, l'indissolubilità, l'unità, la fedeltà e l'apertura alla vita. La chiesa ha chiarito non ha paura di rimboccarsi le maniche per versare l'olio e il vino sulle ferite degli uomini, una chiesa che non guarda l'umanità da un castello di vetro per giudicare o classificare le persone. Ha quindi ribadito che il compito del successore di Pietro è quello di garantire l'unità della chiesa e quello dei Vescovi di nutrire il gregge e accogliere chi si è smarrito. Il Pontefice ha inoltre autorizzato la pubblicazione della Relazio Sino, di la relazione conclusiva dei lavori dell'Assemblea Sinodale. Il documento è stato approvato in aula con una votazione numero per numero dei 62 paragrafi a maggioranza qualificata. Tre punti in particolare relativi alla comunione per i divorziati risposati e all'omosessualità non hanno raggiunto la maggioranza qualificata, ma solo quella assoluta. Grazie a tutti.